Las Vegas Las Vegas, sparatoria al concerto di musica country, almeno 20 morti, oltre 100 feriti Las Vegas, sparatoria al concerto di musica country, almeno 20 morti, oltre 100 feriti Di Alberto Graziola lunedì 2 ottobre 2017. Las Vegas, strage al concerto di un festival country, uomo spara alla folla davanti a un casino. Alto il bilancio di morti e feriti Strage al concerto di un festival di musica country a Las Vegas, il Route 91 Harvest Festival dove una persona avrebbe aperto il fuoco dal 32esimo piano del Mandalay by Hotel, mirando alla folla, radunatasi allaperto, per levento musicale La polizia sarebbe intervenuta e avrebbe ucciso il responsabile, un uomo armato di mitragliatrice che ha aperto il fuoco dall'alto, per diversi minuti, scatenando il panico e portando, attualmente, il bilancio di oltre 100 feriti e 20 morti Le forze dell'ordine parlano di un possibile complice, una donna asiatica, attualmente in fuga, e sembra che sia stata esclusa la pista del terrorismo. Parlano dell'azione di un lupo solitario .